Dopo le polemiche innescate dal Movimento 5 Stelle, il presidente della regione commissario ad acta per la sanità, Toma, interviene sulla questione dei debiti per la fiscalità non versata, 13 milioni e 600 mila euro, dovuti allo Stato per IRPEF e IRAP dalla passata amministrazione frattura. Dai pentastellati arriva la critica di ostruzionismo. Secondo i grillini, Toma non avrebbe versato di proposito in passato le somme dovute per mettere in difficoltà la struttura commissariale. Falso, dice Toma. Dall'ex commissario Giustini ho ricevuto la richiesta di versare tutto e subito, ma questo non era possibile. Come stanno realmente le cose? Le cose realmente stanno in questi termini. Il commissario Giustini quando arrivò chiese alla regione il versamento della fiscalità non riversata al bilancio della sanità durante l'amministrazione frattura erano circa 13 milioni e 6, per la verità ne chiese un po' di più, poi furono riviste i calcoli e si arrivò a circa 13 milioni e 6. Il commissario richiese alla regione Molise tutto e subito, cosa che non era possibile perché il bilancio regionale non lo permetteva. A sbloccare la situazione è stato il lavoro degli ultimi giorni messo a punto con i Ministeri della Salute e delle Economie e Finanze che hanno accolto il percorso prospettato da Toma, quello di una dilazione dei pagamenti, fatto che dà a sua volta il via libera ad una premialità di 30 milioni di euro per il Molise. La novità invece del nuovo commissario che sarei io è quella di aver letto il decreto legge 154 del 2008 che consiglio a loro signori di andarselo a leggere, in particolare l'articolo 1,2, che prevede la potestà, il potere, la possibilità e quindi la discrezionalità da parte dei Ministeri affiancanti di sbloccare le premialità qualora una regione si trovi in oggettive difficoltà finanziarie e di dimostrazione di buona volontà di voler superare quelle oggettive difficoltà. Qual è la dimostrazione di di voler superare le difficoltà finanziarie? Adottare, come ho richiesto io alla Giunta, una delibera che desse indirizzi alle strutture regionali di mettere sul piatto, di redigere un piano triennale di recupero di quella fiscalità, quindi di appianamento di quella fiscalità. Con questa delibera io chiederò a breve ai Ministeri affiancanti di sbloccare le premialità. Quindi non tutto è subito, ma tutto è direzionato nel tempo. Questo è l'arcano che forse chi non legge le leggi non riesce a capire, a comprendere. Oltre le questioni contingenti restano sullo sfondo i due obiettivi principali che toma commissario si è prefisso l'azzeramento del debito attraverso un intervento governativo e la successiva fine del commissariamento.